Queen, poltrona pedicure. Gli insoliti allestimenti del salone di bellezza in stile glamour permettono di allontanarsi dalla realtà e rilassarsi in un ambiente unico, la stazione per pedicure Queen è caratterizzata da funzionalità, finitura decorativa e design sontuoso, l'elegante poltrona con pratica vaschetta idromassaggio renderà i trattamenti per la cura dei piedi un'esperienza favolosa. I braccioli accuratamente imbottiti forniscono un eccellente supporto per le mani anche durante i trattamenti più lunghi, lo schienale decorato in stile reale e l'ampio sedile imbottito in schiuma consentono un comodo posizionamento del corpo. Ciò fornirà agli utenti un elevato livello di comfort, su base stabile ha inoltre presente un piatto doccia di opportune dimensioni con possibilità di collegamento diretto allo scarico dell'acqua. Ciò garantisce l'esecuzione dei trattamenti al massimo livello, il supporto per pedicure contiene gli elementi più importanti necessari per eseguire procedure cosmetiche professionali, pur mantenendo elevati standard igienici, grazie a questo, con un solo acquisto, potrai allestire un angolo esclusivo per i servizi di pedicure, donandogli un carattere unico.